Gli elementi per combattere sul piano degli appalti dell'Expo ci sono tutti. Noi sull'Expo sogniamo tre cose, ma è un sogno realizzabile. Un Expo con i cantieri senza neanche un morto. Un Expo senza neanche una lira di lavoro nero, e si può fare se la magistratura, l'ispettorato del lavoro e tutte le forze ci aiutano. E quindi un Expo senza morti e senza lavoro nero vuol dire anche un Expo senza mafia. Questo si può fare e lo faremo. Ecco io chiedo ai diretti interessati, facendo un giro insomma, dottor Ingroia, senatore Di Pietro, è così, insomma quando ci sono gli appalti pubblici si è garantiti, non c'è pericolo di mafia. Non ci sono garantiti, ma si può fare. Si può fare. Beh, si può fare. La mafia non riesce ad entrare lì? No, non riesce un attimo. La mafia sicuramente c'è una fortissima, mi pare che il senatore Castelli su questo, siamo d'accordo, ci sono fortissimi appetiti mafiosi soprattutto su questi appalti. Vedo una torta cercherà di prenderla. La sorveglianza come auspica il senatore Castelli e c'è un impegno collettivo nella consapevolezza del rischio, certo che lo si può fare, per carità. Senatore Di Pietro, secondo lei c'è trasparenza negli appalti e poi parleremo anche dei subappalti. Il regolamento l'ha fatto lui e se dice di no, non puoi fare a dire di no. Il regolamento l'hai fatto tu e fai a dire di no che non c'è trasparenza. Siamo garantiti. Le leggi, come sapete, ci sono. Il modo per aggirarle c'è. Allora, andiamo con ordine. Io vorrei fare questa trasmissione senza alcun fine politico-elettoralistico, perché altrimenti facciamo a chi rilancia di più o a chi dice ma tu hai fatto e tu non hai fatto. Allora, andiamo con ordine. Quella che abbiamo visto è un aspetto della mafia, Andrangheta, Camorra e quant'altro. Io credo, per la miriade di inchieste che sono state fatte, in Italia, al nord e al sud, che la mafia dentro il sistema degli appalti c'è e come. E una miriade di indagini a Palermo, a Catania, a Milano, a Torino, a Genova, a Venezia, dappertutto, dimostrano che non esiste più il concetto di mafia. La criminalità del sud che è emigrata al nord. Ormai non ha più, data una grafica, la mafia. Quella mafia non mi riferisco a quella spicciola che va a fare l'escursione o il ricatto al bar per farsi dare il 10%. Oggi c'è un'altra mafia che sta proprio dentro, si affianca alle istituzioni, a volte sta dentro le istituzioni. E in questo senso ci sono una miriade di imprese del nord che, al nord come al sud, stanno facendo connivenza con la mafia. Nei grandi appalti il problema non è chi vince la gara, ma tutto il subappalto che c'è sotto, che gestisce il sistema dei materiali, il sistema della mano d'opera e quant'altro. Allora io credo che è inutile che stiamo a discutere quale è più mafioso, se è quello col colletto bianco che ci mette la faccia o quel col colletto nero che ci mette la pistola. Però quello che ci mette la pistola forse lo riconosciamo un po' più facilmente. Perché c'è la pistola in mano, quell'altro c'è un foglio di carta che a volte è un regolamento, una legge, un bando di gara fatte proprio in quel modo invece che in un altro, eccetera. Quindi quello che invece ha detto l'onorevole Castelli, che mi pare di poter condividere in pieno, è questo. Correggimi se sbaglio, l'Expo può essere un fiore all'occhiello per il rilancio non solo di Milano, ma del sistema paese. E allora pensare che siccome può arrivare la mafia, dobbiamo metterci i bastoni contro per non farlo, è come quello che dice siccome non arriva la riva, ma posso subito, allora ha lanciato tre temi che io mi risento di rilanciare. Che ha detto né morti, né lavoro nero, né mafia. Si può fare, si deve fare, finora non si è fatto. Io potrei, se volessi fare politica, dirglielo di cotto e di crudo contro quel che possono non aver fatto loro su questi tre temi. Loro mi possono dire di cotto e di crudo più uno di quel che non abbiamo fatto noi. Io credo però che se ci mettiamo un po' più di controlli, ma nel senso di personale, un po' più di soldi a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura e un po' più di attenzione nella individuazione delle persone da scegliere per questo controllo, una regola sola metterei io prima e vorrei sapere cosa ne pensi su questo, una regola di un rigo solo. Tutte le imprese, i cui imprenditori sono stati condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, per reati attenente alla sicurezza o alla materia del lavoro, non possono partecipare alle gare pubbliche, né come appaltatori né come subappaltatori. Hai detto niente?